Adesso, ultima lezione di questa due giorni di Oldenstart qui alla Nuvola. Abbiamo ospite una filosofa, romanziera, trendsetter, TV personality e direi anche critica culturale. Non vedo l'ora di ascoltarla, Ilaria Gaspari. Eccoci, buonasera a tutti ragazzi. Sono felicissima di essere qui con voi. So che voi state iniziando in questi giorni un po' strani un percorso che mi auguro sarà bellissimo. Ecco qua il titolo che non ricordavo più del mio intervento. Sì, allora, in effetti era quello che ricordavo. Io, vabbè, mi chiamo Ilaria Gaspari, poi vi parlerò un pochino anche di me, ma non tanto di me come persona che non è molto interessante quanto della strada che mi ha portato a essere qui oggi da quella ragazza che ero un tempo e che si era iscritta a filosofia tanti anni fa ormai. Però oggi, più che altro, parleremo di insetti. Parleremo di insetti e voi mi direte, ma cosa c'entrano gli insetti con il titolo che peraltro non ti ricordavi del tuo intervento? In realtà c'entrano perché, non so quanti di voi lo sanno, ma voi lo sapete che estro significa sia furore creativo, impellenza di scrivere, impellenza di creare, ma indica anche un particolarmente fastidioso insetto. Quanti di voi sinceramente lo sanno? Io non lo sapevo fino a poco tempo fa. Ecco, l'estro è l'altro nome del tafano, niente popò di meno. Io questa cosa l'ho scoperta, fra l'altro per puro caso, come succede molto spesso con le scoperte, diciamo, che più ci stupiscono, no? Quelle coincidenze che magari a un certo punto noi ci imbattiamo in questa cosa e in qualche modo fanno scattare qualcosa dentro di noi. Ora, io penso che in questo percorso che state per iniziare ora, ne troverete tante di coincidenze così, troverete tanti click, tante piccole scoperte che fanno risuonare qualcosa dentro di voi. Io quando ho scoperto che estro era un altro nome del tafano, mi sono sentita in qualche modo compresa. È successo qualche settimana fa, era quest'estate, perché appunto l'estate è la stagione dei tafani, e un mio caro amico mi stava raccontando come si era stirato un muscolo del polpaccio cercando di uccidere un tafano. e mi diceva, no, perché mi hai preso questo tafano, questo estro. Dico, ma di cosa stai parlando? Stai parlando di un'ispirazione che ti è venuta o di un insetto? Dici, no, no, è l'altro nome dell'insetto, è estro. E la stessa cosa succede in latino. In latino, asilus, significa sia assillo, nel senso di qualcosa che ci assilla, nel senso di una passione che ci tormenta, che ci ossessiona, ma significa anche l'animale, il solito animaletto tafano. Ora, a me questa cosa ha fatto risuonare corde antiche, perché appunto, come vi dicevo prima, io ho studiato filosofia, e c'è un tafano molto famoso nella storia della filosofia che è niente po' po' di meno che Socrate. Socrate, che è in qualche modo il creatore, il padre, sembrano sempre retoriche queste definizioni quando le usiamo per qualcuno che è esistito davvero, però effettivamente, se non diamo a Socrate quel che è di Socrate, non so proprio dove andremo a finire. Ecco, Socrate, che è una delle personalità grandissime che hanno fatto della filosofia quello che è poi diventata nella storia, a un certo punto viene, inizia a infastidire i suoi concittadini, perché la sua idea di filosofia, che è quella da cui è nata la filosofia come la conosciamo noi oggi, era quella di fermare continuamente la gente per strada e interrogarla, e fare domande, e costringere tutti a dire, ma allora cos'è per te la virtù? Eh, ma è questo, questo, quest'altro? Eh no, però ti stai contraddicendo, e quindi gli attaccava dei bottoni infiniti ai suoi concittadini, costringendoli a ragionare e a rispondere alle sue domande, ed aveva dato persino un nome a questa sua tecnica, cioè la maieutica, che era poi il nome della tecnica delle elevatrici. Diciamo, lui dice, io faccio quello che fanno le elevatrici, che fanno nascere i bambini, fanno partorire alle donne i bambini, ecco io faccio la stessa cosa, faccio partorire alle persone la verità. Questo piccolo, così, excursus su Socrate per dirvi che a un certo punto gli attenesi non ne poterono più, e quindi decisero di metterlo sotto processo. In realtà, non soltanto perché l'infastidiva, ma anche perché, a furia di pungolare i giovani, a furia di pungolare tutti i passanti delle strade di Atene, quello che succedeva era che molti giovani iniziavano a seguirlo, iniziavano a pensare come pensava lui, e iniziavano quindi a porsi delle domande, non soltanto su questioni teoriche, come cos'è la virtù, ma anche su questioni molto più pratiche. Per esempio, perché devo andare a combattere nell'esercito? Per esempio, perché devo credere in questa moltitudine di dèi che passano la vita a spassarsela mentre noi siamo qua che soffriamo? Ecco quindi che Socrate viene accusato di corrompere i giovani, di istigarli all'impietà, e viene messo sotto processo. Quando viene messo sotto processo, Socrate fa una cosa, diciamo anche molto cinematografica. In molti film abbiamo visto l'imputato che decide di difendersi da solo, esattamente quello che fece Socrate. Lui invece di chiamare un avvocato a difenderlo, perché i tribunali nella Grecia antica funzionavano in un modo abbastanza simile a quei tribunali da film statunitensi che vediamo spesso nei legal thriller, quindi c'erano dei veri e propri discorsi, delle arringhe per difendere l'accusato. E Socrate decide di farla da sola, la sua arringa. Decide di farla da solo e come fa? Beh, avrebbe tantissime strade perché è molto più intelligente della platea che ha davanti, è molto più intelligente dei suoi accusatori, è molto più intelligente degli ateniesi che gli urlano contro, ma che il giorno prima gli andavano tutti dietro, e lui potrebbe veramente metterli in scacco con un niente. Basterebbe, per esempio, che chiamasse sua moglie e i suoi figliolini, gli facesse venire lì, facesse commuovere la giuria e sarebbe scagionato. Basterebbe che chiedesse scusa. Invece lui decide di provocarli, decide di provocare i suoi giudici e fa due discorsi molto importanti. Uno è quello in cui lui dice beh, sapete che c'è, voi mi potete anche mettere sotto accusa, ma io non ho assolutamente niente da rimproverarmi perché quello che ho fatto sempre, scusate se continuo a fare questo gesto, ma parlare con la mascherina è orribile, però necessario, dice, io, anche se mi accusate, non c'è niente che mi potete fare perché io in realtà sono a posto con me stesso e questo perché tutto quello che ho fatto nella mia vita è stato seguire il mio daimon. Dice, cos'è il daimon? Non si sa. Non si sa, ma è una cosa importante e ci torneremo. Il daimon è sostanzialmente, nelle parole di Socrate, ma sono parole su cui gli studiosi si sono accapigliati per diversi secoli, è sostanzialmente quella voce che ci avverte nel momento in cui stiamo per fare qualcosa che non è da noi, nel momento in cui ci stiamo allontanando da quello che siamo davvero. diciamo che forse il grillo parlante di Pinocchio, che immagino conosciate tutti, è forse più simile al daimon allora che alla coscienza, nel senso che la coscienza è qualcosa che di solito ci avverte dopo che abbiamo fatto qualcosa che non era da noi o che era sbagliato, molto più spesso qualcosa che era sbagliato secondo delle regole morali che siamo tenuti a rispettare. Invece il grillo parlante avverte sempre un attimo prima, solo che il grillo parlante è un'oggettivazione del daimon, è qualcosa che sta al di fuori di Pinocchio, vabbè, senza contare il fatto che Pinocchio è un burattino. Invece il daimon è una voce interiore, quindi è una voce che si impara ad ascoltare ascoltando se stessi. È quella voce che ci dice, in qualche modo che ci avverte, quando stiamo deviando dalla strada che ci porta a essere noi stessi. e questa cosa è molto importante nella cultura greca perché nella cultura greca una parola che è importante, che era importante per i greci, così come è importante per noi oggi, cioè la parola felicità, si dice niente po' di meno che eudaimonia, cioè avere un buon daimon, avere un daimon che è soddisfatto di quello che stiamo facendo. Quindi sostanzialmente Socrate dice, beh, voi potete processarmi, potete condannarmi, cosa che infatti loro non si faranno dire due volte e faranno e Socrate finirà poverino a bere la cicuta, potete farlo, però io sono felice, io ho un buon daimon perché ho seguito la mia vera vocazione, mi sono costruito una vita che somiglia a quello che io sono profondamente e cioè una vita fatta di ricerca, perché Socrate dice anche che una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Lui non vorrebbe farsi perdonare a condizione di smettere di cercare questa verità che insegue. Questa è la prima cosa importante che dice Socrate nell'Apologia. La seconda cosa molto importante, molto importante in realtà ai fini del discorso che facevamo, ma che in realtà ci riporta ancora questa urgenza di cercare qualcosa, questa urgenza intellettuale, creativa, questa spinta tormentosa, è quella di paraconarsi lui stesso a un tafano. Lui dice io sono come un tafano che pungola una vecchia cavalla. Atene è la vecchia cavalla, è stanca, è una città stanca, è una città che se fosse per lei rimarrebbe immobile, rimarrebbe pigra. Ma per fortuna ci sono io con le mie domande che voi trovate fastidiose e lo sono, ma sono quello che costringe questa vecchia cavalla a muoversi. Ecco, ora dovete sapere che appunto i tafani in una cultura come quella greca in cui appunto la vicinanza fra gli uomini e gli armenti, diciamo, quindi le greggi, quindi i bovini, quindi i cavalli, era sicuramente molto molto più, come dire, ridotta rispetto alla differenza, alla distanza che c'è in genere fra noi, persone inurbate, persone del ventunesimo secolo e i nostri animali che spesso non abbiamo infatti. Ecco, il tafano è una figura importantissima ed è una figura importantissima anche dal punto di vista mitologico, tant'è vero che se voi foste stati bambini greci vi avrebbero raccontato quando eravate piccoli la storia di Io e di Zeus. La storia di Io e di Zeus è una storia che probabilmente conoscete anche voi. Io ero una sacerdotessa consacrata a Hera e come sapete era la moglie di Zeus moglie di Zeus costretta purtroppo a sopportare diverse scappatelle da parte del suo consorte che si serviva spesso di queste umane o di ninfe comunque lui teneva d'occhio la terra diciamo non è che la tradisse tanto con le idee quanto con le terrestri fossero ninfe fossero semi idee fossero normalissime mortali insomma questa Io era figlia di una ninfa e del signore di Argo Inaco e a un certo punto Zeus si incapriccia di questa giovane ragazza nonostante lei sia appunto una sacerdotessa consacrata al culto di sua moglie e quindi la seduce c'è in Ovidio c'è questo bellissimo racconto sono molto divertenti le metamorfosi di Ovidio perché raccontano questi questi momenti queste scene fra dei fra eroi fra semidei come se fossero delle cose che succedono fra uomini questa è una delle cose bellissime della religione greca pensarci ora cioè quanto sono umani i suoi dei ecco e Zeus un po' da seduttore da quattro soldi cerca di convincere questa povera io a seguirlo e lo fa un po' con le parole simili a quelle che userà poi il Don Giovanni per sedurre Zerlina e dice no ma andiamo conosco un posticino bellissimo vieni con me calcola che io sono il re degli dei non è che sono uno qualsiasi io porto lo scettro e lei fa la ritrosa allora Zeus decide come spesso faceva anche per non farsi beccare dalla moglie di trasformarsi in una nube e inizia ad avvolgere questa giovinetta ma era che non era assolutamente stupida si accorge vedendolo dall'alto dall'alto del monte Olimpo si accorge di questa strana nuvola che fa delle strane contorsioni dice questa nuvola non me la conta giusta quindi va giù a vedere e si rende conto che si tratta di suo marito che sta cercando di concupire la ragazza allora cosa succede succede che Zeus appena in tempo prima che arriviera trasforma io la povera io in una vacca in una giumenta insomma tant'è vero che in molti quadri in molte rappresentazioni lei è rappresentata come una ragazza con delle corna di vacca quindi lui la trasforma in una mucca e a quel punto cosa succede che Hera inizia a subodorare che quella mucca non sia veramente una mucca ma sia la ragazza che lei aveva intuito dall'alto e quindi a chiedere a Zeus di cedergliela dice ma allora questa mucca me la devi dare se non hai niente da nascondere insomma lui dopo molte proteste gliela cede gliela cede e Hera la tiene prigioniera facendola sorvegliare d'Argo il gigante dai cento occhi che a un certo punto viene fatto addormentare insomma sia tutta una storia per liberare io perché a un certo punto interviene Hermes che col suo flauto di pan incanta i cento occhi di Argo Hera si arrabbia moltissimo perché a quel punto Argo viene ucciso e quindi lei e da lì nasce il pavone perché Hera essendosi arrabbiata moltissimo prende gli occhi di Argo e li schiaffa sulla coda del pavone ed è per questo che il pavone ha quella coda che sembra avere tanti occhi spalancati ma c'era soprattutto la povera io che nel frattempo continuava a essere una mucca e a quel punto la vendetta di Hera è tremenda lei prende un tafano e la fa assillare da questo tafano e la mucca è talmente infastidita dal tafano da percorrere a nuoto tutto il tratto di mare che va dalla Grecia dall'Argolide fino all'Egitto e solo in Egitto poi alla fine sarà il sicuro questo per dirvi quanto nel mito greco fosse nota fosse incisa con forza l'idea della fastidiosità del tafano anche nell'Odissea quando a un certo punto Atena mostra la sua Egida tremenda che è il segno che può iniziare la strage dei proci che Odisseo può iniziare a far fuori i proci come niente fosse e quindi questa Egida che è qualcosa qualcosa di tremendo qualcosa che i mortali non dovrebbero vedere viene visto i proci iniziano a scappare dice Omero come fossero armenti tormentati dall'assillo l'assillo è ancora una volta il tafano ma la parola greca che significa tafano oistros è la stessa che significa anche un'altra cosa che è la cosa che forse in un certo senso ci porta qui tutti quanti oggi significa anche cioè furore poetico c'è una radice indoeuropea che ora vi citerei ma francamente non me la ricordo più comunque ha qualcosa a che fare con i suoni della E della R e della T c'è una radice indoeuropea proto-indoeuropea anzi da cui deriva questa parola greca antica che significa che è la radice comune sapete ci sono delle radici nella parola i linguisti hanno studiato hanno isolato come se isolassero delle componenti chimiche nei composti chimici hanno isolato le radici dalle quali si formano delle intere costellazioni di parole perché molto spesso è nei suoni che risiede il primo significato delle parole sono i suoni che danno la matrice a delle famiglie di parole che poi nelle lingue che derivano dallo stesso ceppo in qualche modo si ritrovano si assomigliano pensate a parole come madre che in tante lingue anche in tante lingue europee si assomiglia e si richiama sono parole naturalmente più sono parole basilari più sono parole usate dagli uomini più sarà straniante e forte e sorprendente la somiglianza ecco questa radice indoeuropea che sul momento non mi ricordo ma tanto è poco importante questo è la radice che indica tutta la costellazione delle parole legate al fastidio al furore alla rabbia alla passione e alla poesia ora vi rendete conto di quanto questi popoli antichi che forgiavano il linguaggio a partire da delle somiglianze che vedevano e che in qualche modo trasportavano nella lingua in un modo poetico perché lo stavano creando perché la lingua si stava creando allora per questo la lingua greca oggi ci appare così saggia anche se ne conosciamo poche parole perché riusciamo a rintracciare le somiglianze che hanno portato dall'una all'altra perché è una lingua di cui riusciamo a vedere anche un po' la formazione come se guardassimo una radiografia della nostra lingua ci troviamo qualcosa delle tracce di questa lingua più antica da cui tante delle nostre parole sono derivate ecco allora questa radice questa parola questo oistros ci rivela in realtà a noi che oggi un po' forse non ci facciamo caso o l'abbiamo persa questa idea la connessione fortissima che c'è fra il furore poetico il furore della creazione la rabbia e il fastidio non so se ci avevate mai pensato in questi termini non so quale sia oggi il vostro rapporto con la scrittura non so che forma prenderà nei prossimi anni io vi auguro che sia un rapporto diestro vi auguro che sia un rapporto che vi appassiona che vi infastidisce che vi tormenta qualche volta ma che vi entusiasmi che sia veramente un rapporto passionale ora vi ho portato e più tardi li leggeremo qualche testo di scrittori che io amo molto e che parlano esattamente di questo di questo sfrigolare di questo fastidiosissimo di questa voglia di questa smania di questo fastidiosissimo amore per la scrittura che nel momento in cui uno scopre cosa significa scrivere scopre la bellezza di creare si trasforma anche in un assillo ecco naturalmente poi volevo lasciare anche uno spazio alle vostre domande anche ai vostri interventi e mi farebbe tantissimo piacere sapere cosa ne pensate voi che rapporto avete oggi con lo scrivere anche perché magari sarà qualcosa che nei prossimi mesi nei prossimi anni cambierà e si evolverà e magari vi ricorderete di questo momento come di un momento in cui magari avete provato a guardare la questione sotto questa luce che alla fine è quello che ci aiuta a fare in genere la filosofia ecco però l'idea è che questa parola greca antica ci rivela fortissima questa connessione è una connessione che non si è persa neanche in secoli più recenti anche se appunto oggi forse non è così nota per esempio c'è un divertentissimo trattatello di inizio settecento che è stato scritto da questo medico naturalista che sostanzialmente Antonio Vallisneri che sostanzialmente offre una cicalata che erano praticamente questi trattatelli scherzosi che nascevano da discussioni post-prandiali e la offre a uno dei fondatori dell'Accademia dell'Arcadia che è un'accademia che nel settecento italiano si rifà a degli ideali pastorali all'idea dei poeti pastori all'idea delle georgiche di Virgilio all'idea che appunto poetare sia starsene nella natura sia guardare la natura sia tornare a uno stato più naturale e il simpatico Vallisneri prende in giro questa mania che hanno i poeti di dirsi estrosi di millantare il loro oeste e dice loro non sanno cosa significa per i filosofi naturali per i medici questa parola estro significa una bestiaccia che gli darebbe tantissimo fastidio significa una cosa tremenda ecco io quando mi sono imbattuta in questo trattatello in questa cicalata che è molto divertente devo dire perché appunto è divertente del settecento ovviamente quindi dunque anche un po' scritto in un italiano che a noi appare anche un po' antiquato però è molto divertente perché è fatto apposta per prendere in giro dei vezzi è fatto apposta per ridere di alcune debolezze diciamo del poeta medio la cosa che mi ha colpito tantissimo è che in effetti mi sembrava che fungolasse tantissimo anche me le mie pose che qualche volta prendo di scrittrice mi metto lì col bicchiere di vino al mio tavolino dico adesso adesso creo adesso faccio queste sono debolezze private vabbè ve le rivelo a voi perché tanto e tanto già che ci siamo però diciamo questa idea del dire vabbè io voglio scrivere voglio sono contento di pubblicare i miei libri voglio che tutti li leggano questo piacere anche un po' esibizionista che fa parte del piacere della scrittura naturalmente ma che e che tante volte ho anche riscontrato appunto in me stessa mi prendo come esempio non perché mi voglia come dire autodeprecare ma perché molto semplicemente so benissimo quanto è bello mettersi in posa per la parte della scrittrice dello scrittore però il fatto è che dietro di questo c'è qualcos'altro c'è qualcosa che somiglia molto all'insetto c'è qualcosa che ci infastidisce c'è qualcosa che ci pungola c'è qualcosa che non ci dà tregua che non ci dà pace che ci fa sentire perennemente in difetto c'è qualcosa che ci costringe continuamente a confrontarci con i nostri limiti che ci spinge continuamente contro quello che non sappiamo fare quello che dobbiamo ancora imparare quello che dobbiamo cercare ed è una cosa tormentosa da un lato dall'altro io ogni volta che mi ritrovo a confrontarmi con questo aspetto della scrittura l'aspetto diciamo più segreto più di insoddisfazione più frustrante ora scusate non è che vi voglio demotivare parlandovi di questa cosa però è una cosa è una componente che secondo me ha anche una forza di attrito una forza motrice che è importantissima io ho imparato ad amare questa parte della scrittura questo lato un po' in ombra questo lato oscuro che fra l'altro è un lato che moltissimi grandi scrittori hanno raccontato e raccontano adesso leggeremo qualcuna delle loro parole perché mi fa piacere così condividerle con voi anche perché magari se un giorno vi dovesse capitare di trovarvi non so davanti a una pagina bianca di trovarvi un po' in crisi di trovarvi a pensare oddio non ce la faccio non è per me non è questa cosa ma in realtà magari potranno tornarvi in aiuto ma tornando al discorso di Socrate il tafano del tribunale di Atene ora vi rendete conto di cosa significhi vivere una vita che sia votata alla ricerca vivere una vita che non ha senso nel momento in cui si esce dalla logica della ricerca significa evitare questo assillo significa evitare di avere questa cosa che ti pungola che ti spinge idealmente ad andare dall'argolide all'Egitto a nuoto questa cosa che fa muovere una vecchia cavalla che è stanca che vorrebbe solo restarsene lì che vorrebbe solo rassegnarsi significa anche seguire il proprio daimon significa ascoltare quella voce interna che ti dice ok non è perché non è per egolatria no non è perché ti devi rappresentare come quello lì con la sigaretta il bicchiere di vino che scrive eccetera eccetera ma è perché hai un'urgenza di raccontare è perché ti sfrigolano le mani nel momento in cui ti siedi è perché non troverai pace fino a quando non avrai raccontato quella storia fino a quando non avrai trovato quella parola fino a quando non avrai qualcuno che sorride leggendo quello che hai scritto qualcuno che un po' si commuove perché magari volevi farlo commuovere qualcuno che si spaventa ecco questa secondo me è come dire da un lato la condanna dall'altro la bellezza dello scrivere io sono una persona veramente come posso dire disorganizzata e con grossissimi problemi nella gestione del tempo e ora forse vi starete chiedendo cosa ci faccio qui cioè chi sono da dove vengo perché effettivamente non ve l'ho ancora detto allora io praticamente sono cresciuta in una famiglia un po' alternativa quindi da bambina non avevo la televisione erano gli anni 90 ero a Milano tutti i bambini avevano la televisione passavano il pomeriggio a vedere i cartoni di cui conoscevano a memoria le sigle tutti i bambini avevano a merenda scuola la fetta al latte io avevo la banana a merenda infatti ragione per cui oggi odio le banane non le posso vedere e allo stesso tempo non avevo la televisione oltre a tutto questo ho anche un problema con la musica per cui non potevo neanche far finta di conoscere le sigle a memoria perché io soffro di amusia che è una specie di dislessia però con la musica altra tragedia della mia vita che però oggi vi risparmio questa bambina che ero aveva un posto dove stare aveva un posto in cui si trovava bene e che è diventato in realtà anche una parte della sua identità forse una parte anche del suo daimon questo posto erano i libri perché ovviamente dovendo comunque impiegare i miei pomeriggi infantili e non avendo appunto armenti a cui badare che mi avrebbero forse insegnato prima cos'era il tafano io dovevo leggere leggevo dovevo far passare le ore e le passavo leggendo quindi leggevo leggevo moltissimo e in qualche modo è stato come se i libri i libri che amavo non quelli che non amavo non quelli che mi davano da leggere magari per forza a scuola che non sempre erano quelli che mi piacevano perché mi piacevano i libri che amavo hanno iniziato a diventare in qualche modo una parte importante della mia personalità del mio modo di stare con gli altri di come gli altri mi riconoscevano io raccontavo le storie che leggevo nei libri molte volte facendo anche bellissime figure ma in realtà erano solo plagi inventavo delle storie a partire da quelle che leggevo come delle specie di spin off delle storie che avevo letto insomma lavoravo moltissimo di fantasia e soprattutto lavoravo moltissimo in come dire in continuità in contiguità con questi libri e quindi ovviamente sognavo di fare la scrittrice e lo sognavo nel modo bovaristico perché vabbè ero anche una bambina lo sognavo nel modo di una bambina che si identifica tantissimo in giù di piccole donne naturalmente ovviamente e anche di una bambina che costringe tutte le sue amiche e sua sorella a interpretare le bambine di piccole donne in un suo adattamento teatrale orribile insomma cercavo anche di fare dei timidi tentativi di come dire di scrittura ma soprattutto appunto mi sentivo che quello doveva essere il mio destino e lo immaginavo appunto con questa vaghezza quando poi sono cresciuta e diciamo questo fatto di essere una bambina cresciuta senza televisione è stato sempre meno un problema perché ho avuto sempre meno bisogno di puntelli per costruire la mia identità sono cresciuta e è arrivato il momento di andare all'università e naturalmente il mio grande amore era la letteratura e naturalmente mi immaginavo a studiare lettere con anche un paio di occhiali perché avevo tutto il mio immaginario bovaristico anche da studentessa però in realtà a quel punto ho deciso che avrei preferito preservare il mio amore per la letteratura come un amore clandestino è stata una scelta strana se ci penso adesso però è stata una scelta saggia tante volte nella vita ci troviamo a fare delle scelte che in qualche modo ci sembrano illogiche lì per lì ma che poi si rivelano più sagge di quello che sembrerebbero sul momento ecco fateci caso in quei casi qualche volta succede che il diamond quella vocina interiore ci avverte oddio ma stai facendo una cosa sbagliatissima stai sbagliando strada stai facendo una grossa cazzata altre volte il diamond tace quando il diamond tace nonostante noi sembriamo fare una scelta un po' illogica forse siamo sulla strada giusta è sottile questa cosa del diamond perché non è facile sentire la sua voce però è una voce che nel momento in cui uno si mette in ascolto e mettersi in ascolto del diamond è una cosa molto antica ma che possiamo fare anche noi oggi perché è anche un modo di rispondere al motto antico del conosci te stesso che è il monito fondamentale di tutto il sapere greco è la scritta sul tempio di Apollo conosci te stesso conosci te stesso vuol dire anche ascoltati ascolta la tua voce interna quella che nessuno può sentire che nessuno capisce ecco quella voce mia che nessuno capisce e forse non capivo nemmeno io quando avevo 19 anni non si oppose alla mia idea di scrivermi a filosofia mi sono iscritta a filosofia perché volevo un metodo perché cercavo un metodo perché cercavo una strada che mi desse disciplina perché già allora avevo qualche problema di gestione del tempo che poi sarebbe drasticamente peggiorato ma questo ovviamente non potevo saperlo quindi ho deciso di scrivermi a filosofia per avere da un lato questa idea questa come dire forse questa illusione della conquista di una disciplina di un metodo nello studio e nel modo di guardare il mondo e dall'altro per preservare il mio amore per la letteratura come qualcosa di intatto come qualcosa che non sarebbe diventata materia di studio ma che sarebbe rimasta lì per me per tornarci come quando volevo naturalmente in tutto questo avevo smesso di scrivere non so se sia capitato anche a voi questa cosa magari da bambini una creatività veramente un'irruenza pazzesca nell'adolescenza un momento di così di autocoscienza un momento in cui uno si rende conto dei suoi limiti e ha paura a sfidarli un momento anche di quel perfezionismo un po' depressivo che ti dice no ma tu non sei in grado non lo fare io l'ho vissuto così e infatti un libro che ricordo con tantissimo affetto che ho letto in quell'età e che non so forse conoscete è Orlando di Virginia Woolf che è un libro che racconta la storia di un talento di un talento inconsapevole di un talento che lotta contro se stesso e che deve vivere attraverso i secoli deve addirittura cambiare trasformarsi da uomo in donna deve vivere mille vite per cercare di riuscire di portare a termine a portare a termine questa opera che non si sente all'altezza di completare Virginia Woolf ha lottato col suo talento tutta la vita dopo ho portato anche i suoi diari per leggervi qualche brano che così magari vi potrà fare compagnia in un giorno in cui appunto vi chiederete dove è finita la vostra vocazione dove è il vostro talento dove state andando cosa state facendo perché vi assicuro che anche a Virginia Woolf si faceva dei problemi che appunto con il senno di poi noi oggi le diremmo ma come è possibile invece è possibile perché scrivere è anche tormentarsi appunto ecco detto questo io insomma a quel punto decido di scrivermi a filosofia faccio i miei bravi cinque anni di filosofia fra l'altro in una scuola molto difficile molto chiusa anche che è la scuola normale a Fisa dopodiché finisco e cosa decido di fare per temporeggiare ancora un po' decido di fare il dottorato già che ho temporeggiato abbastanza anche perché non sapevo assolutamente cosa fare e mi scrivo al dottorato cioè passo l'esame del dottorato e c'è stato un breve periodo quando stavo iniziando a fare il dottorato in cui ho iniziato a stare molto male a soffrire di attacchi di panico ad avere la sensazione che mi mancasse l'aria ora fra l'altro detta oggi questa cosa suona molto strana perché oggi non si potrebbe fare quello che facevo io allora ovvero finire continuamente al pronto soccorso io andavo ogni due per tre andavo al pronto soccorso a Pisa convinta che mi stesse venendo un infarto il caso voleva che ogni volta incontrassi la stessa dottoressa oggi ovviamente questa cosa sembra veramente surreale e la dottoressa che a un certo punto mi prendeva per matta poi a un certo punto iniziò a tenermi lì a dirmi guarda io non so cosa dirti non so cosa farci ma mi mancava proprio l'aria mi sentivo strozzare avevo questi fortissimi attacchi di panico e la cosa molto molto strana che mi è successa in quel periodo è stato che ho iniziato a pensare e ci pensavo anche in un modo inconsapevole ci pensavo anche attraverso i sogni che facevo per esempio ricordo una notte di quel periodo in cui avevo sognato di essere la figlia di Spinoza e Philip Roth che andavo a casa loro che avevano tutte le mie fotografie di me che andavo a cavallo questo spero che nessuno di voi interpreti i suoi sogni però ricordo ancora questo sogno perché mi aveva colpito moltissimo perché in realtà quel momento in cui ho iniziato a mancarmi l'aria quel momento in cui ho iniziato ad annaspare quel momento in cui mi sono sentita tormentata è un periodo cioè questa è la prima e l'ultima volta probabilmente che parlerò in pubblico di quel periodo perché però in realtà c'entra molto quel discorso che vi facevo perché il motivo per cui quando il mio amico mi ha svelato questa cosa questa consonanza fra estro e tafano fra l'insetto del fastidio e l'ansia e la smania di creare il fatto che questa cosa abbia avuto una risonanza così forte dentro di me in realtà oggi mentre venivo in treno e mi preparavo qualcosa da dirvi per stasera è stato lì che ho capito perché per me era così importante questa cosa perché io lo sapevo cos'era quel tafano perché l'avevo conosciuto quel tafano nel mio caso era una specie di morsa che mi impediva di buttare giù l'aria era la paura che mi veniva la notte erano gli attacchi di panico che cercavo di mascherare in maniera vi lascio immaginare quanto efficace era questo momento in cui a un certo punto io non ho potuto più non scrivere e infatti cosa è successo è successo che ho iniziato a scrivere delle orribili poesie per me molto brutte le componevo mentre andavo in bicicletta me le componevo nella testa poi le trascrivevo rischiando incidenti ma credo che non valesse assolutamente la pena eppure era qualcosa che dentro di me iniziava a parlare che iniziava a cercare che iniziava a cercare dei temi che iniziava a guardare anche alle storie alle cose che vedevo intorno a me con un occhio che era simile a quello che avevo avuto fino al giorno prima eppure era uno sguardo già un pochino cambiato e poi vabbè in tutto questo è successo che ho avuto una grossa fortuna e cioè che sono riuscita ad avere un posto a Parigi e quindi sono andata a vivere a Parigi e mi sono liberata di questo ambiente molto competitivo mi sono sentita improvvisamente lontana da un mondo che da un lato mi aveva fatto soffrire ma che dall'altro mi sono resa conto andandomene a Parigi sentendomi per la prima volta libera e euforica quel primo mese che avevo passato a Parigi era stato proprio un tripudio io non riuscivo a dormire da tanto ero eccitata l'idea di essere a Parigi ero entusiasta camminavo andavo non avevo una lira mangiavo solo i cosi gli hamburger del McDonald's che costavano un euro l'uno perché avevo tipo una piletta di euro che mi dovevano bastare per il sostentamento della settimana ora non vi dispiacete poi insomma le cose sono andate un po' meglio però all'inizio era così e praticamente in questo in questo strano contesto mi sono per la prima volta sentita libera da cosa? Da uno sguardo di giudizio che avevo sempre avuto su me stessa sulle cose che avrei voluto scrivere prima sulle cose che mi sarebbe piaciuto raccontare sull'idea del ok ma forse non sono abbastanza brava forse non sono capace a un certo punto mi sono detta mentre stavo a Parigi e mi sentivo tutta nuova e questo assillo ancora di tanto in tanto mi pungeva e quindi mi stimolava come Socrate stimolava la vecchia cavalla perché sennò magari sarei rimasta come una vecchia cavalla ferma lì basta ecco questa cosa a quel punto mi spinse a dirmi va bene magari le cose che scrivo saranno anche brutte faranno pure schifo ti dirò di più magari devo imparare magari scriverò delle cose e mi toccherò buttarle via però non vedo perché non devo provare oltretutto in quel periodo io stavo scrivendo la mia tesi di dottorato un malloppone che poi in seguito ho finito 500 pagine in francese illegibili comunque lì ero ancora diciamo a meno di metà però essendo molto pigra e essendo molto inebriata da Parigi avevo iniziato ad andare a studiare molto spesso non nella biblioteca dove sarei dovuta andare e dove avrei trovato i libri che mi servivano per la tesi ma in un'altra vicina più defilata che però usavo la scusa che per andare nell'altra c'era sempre la coda ci andrò domani ci andrò domani ci andrò domani e insomma avevo scoperto questa bibliotechina se vi capitasse di andare a Parigi in un mondo in cui di nuovo si potrà viaggiare come si poteva fino a ieri se vi interessa la letteratura poliziesca diciamo la letteratura gialla vi consiglio di fare un salto in questa bellissima bibliotechina che sta accanto a una caserma dei pompieri dietro il Pantheon insomma inizio ad andare a studiare in questa biblioteca e sono circondata da vecchietti vecchietti che in questa biblioteca dove ci sono solo manuali su come scrivere gialli libri romanzi gialli e dei faldoni di dossier dei casi cold case della polizia e vedo tutti questi vecchietti che continuano tutti arzilli ad andare a cercarsi i faldoni a sfogliarsi i faldoni e inizio a farmi l'idea che questi signori siano lì per scrivere dei romanzi che siano dei romanzieri e li invidio e sento di nuovo il mio respiro che affoga il mio tafano e a un certo punto però mi dico ma perché non la pianti di lamentarti di fare la cretina così di perdere tempo e non ti metti anche tu non provi anche tu a scrivere un giallo e così ho iniziato a scrivere il mio primo romanzo per gioco perché anche perché non ne potevo più di questo assillo non ne potevo più di quest'ansia che mi accompagnava dappertutto che mi tagliava il respiro ho iniziato a scrivere un po' per gioco e un po' per ansia che praticamente sarà il titolo della mia autobiografia un giorno probabilmente quindi ho iniziato a scrivere e questo libro era dentro di me era già pronto in qualche modo cioè aspettate non voglio non è stato così facile però ha iniziato a uscire a prendere forma sulle pagine pagine che a volte strappavo che a volte mi facevano schifo quando le rileggevo che altre volte mi piacevano che altre volte mi davano la sensazione che stavo costruendo che stavo ricostruendo un mondo un mondo che somigliava al mondo che avevo conosciuto ma era un altro era diverso era mio era un mondo che era fatto delle cose che io sentivo di sentimenti a cui non sapevo neanche dare un nome come una specie di nostalgia repellente che a volte abbiamo per delle cose che allo stesso tempo siamo felici che siano finite e però ci punge proprio un languorino di recuperarle la paura di perdere un passato che era vicino ma che sentivo che si stava allontanando e che si allontanava sempre di più via via che scrivevo c'era c'era tanto nello scrivere quel libro c'era anche il fatto che comunque lo stavo scrivendo per me e stavo rubando quel tempo allo scrivere la tesi c'era anche il fatto che se per qualche giorno mi imponevo di fare il mio vero dovere cioè scrivere la tesi e lasciavo chiuso quel file la mia vocina il mio assillo il mio tafano il mio respiro che si accorciava si faceva sentire e quindi mi rimettevo a scrivere quindi vabbè il morale di questa storia è che molto spesso se avete una cosa urgente da fare è proprio l'occasione giusta per farne un'altra meno urgente che però magari vi va di più di fare e infatti ho finito il romanzo molto prima di finire la tesi cosa che non prendete esempio da me ovviamente perché è stato poi fuoriera di altri problemi comunque questo romanzo ha avuto una serie di colpi di fortuna per cui a un certo punto nonostante io l'avessi scritto veramente un po' così più che altro per me cioè non avevo veramente l'idea che sarebbe stato un romanzo pubblicabile né pubblicato un giorno ma forse non ci avevo neanche osato pensare a questa ipotesi e invece quel romanzo a un certo punto per vie fortuite che vabbè vi potrei riassumere così cioè il fatto che l'aveva letto la mia ex professoressa di francese dell'università perché gli aveva passato un mio amico a cui l'avevo fatto leggere ah perché avevo una specie di piccolo gruppo di amici che leggevano via via le cose che scrivevo e mentre io facevo tutt'altro lavoro perché ormai avevo finito avevo sforato il tempo della tesi e quindi dovevo lavorare per mantenermi e quindi lavoravo a fare un lavoro surreale cioè vestivo i modelli uomini di Valentino alle sfilate nello showroom e quindi mentre ero lì con spilli in bocca a lacciare cravate eccetera eccetera mi arriva una telefonata della mia professoressa di francese che praticamente era stata chiamata a fare l'interprete di Amelino Tomb a una conferenza e quindi aveva conosciuto anzi aveva rincontrato l'editrice di Amelino Tomb che è Daniela Di Sora che è la direttrice editoriale di Voland una casa editrice romana che non so se conoscete abbastanza piccola fa soprattutto stranieri però molto ben curata ecco e lei le aveva parlato del mio libro e questa Daniela aveva detto ma io lo vorrei leggere e quindi dal computer di un modello in questo backstage con la sarta che stirava perché lì c'era quel ferro quello potentissimo verticale che ti stira tutto qualunque grinza ecco io mando questo questo testo e effettivamente questo testo poi piace a Voland e quindi decisero di pubblicarlo e poi vabbè il libro è uscito io ho finito la tesi dopo un po' sono tornata in Italia ho seguito questo libro andando in giro a fare le presentazioni che per me è persona timida è stato un trauma tremendo poi l'ho un po' superato dopodiché ho scritto un altro libro e poi ne ho scritto un altro ancora che è Lezioni di felicità il mio ultimo libro che è forse il primo da cui prenderò dei diritti d'autore decenti insomma prima ne ho fatti due senza questo privilegio però ecco e poi niente continuo a scrivere insegno anche faccio dei corsi anche qua per la Holden ma online su Classify lavoro su collaboro con dei giornali e insomma insomma da una a quella cosa sono nate tante altre cose sono nate nonostante appunto fosse io fossi molto intimorita di lanciarmi in questa avventura sono nate nonostante moltissime persone diciamo a fin di bene in realtà con le migliori intenzioni mi dissuadessero mi dicessero che ero una pazza a tentare questa carriera e soprattutto a fare una serie di stupidaggini lapsus freudiani come quello che mi portò a sbagliare a leggere la data di un concorso universitario che avrei dovuto fare per restare in Francia e continuare la mia strada accademica ma io sbagliai a leggere la data di scadenza in cui bisognava portare tutti i materiali ero convinta che sarebbe stata un mese dopo quella effettiva e quindi persi questa occasione diciamo di amarezza di paura di ansia ne ho avuta tante in quel periodo però il mio tafano in qualche modo il mio tafano che avrete capito per me è una delle facce del daimon ed è contento quando stai facendo la cosa che ti chiede di fare ecco a quel punto si è un po' zittito quel punto mi ha dato un po' di tregua e ho capito che magari non sarò un genio assoluto della letteratura anzi senza magari sicuramente sicuramente ho tanto da imparare sicuramente sbaglio continuo a sbagliare sicuramente certe cose che ho scritto ieri o l'altro ieri oggi mi fanno arrabbiare soltanto a rivederle soltanto a rileggere però ho capito che stavo seguendo una strada che era una strada in qualche modo in cui mi riconoscevo in cui mi ritrovavo in cui trovavo un pochino quella pace che mi serviva a trovare proprio perché questo tafano questo estro maledetto o benedetto non so a seconda delle prospettive smetteva di pungolarmi soltanto quando stavo facendo questa cosa cioè quando stavo scrivendo quando stavo tornando in un mondo che era la mia versione la versione che creavo io di quei mondi in cui ero stata quando ero bambina di quei mondi che avevo amato quando ero bambina ecco questo è stato un momento estremamente così intenso un passaggio che mi fa piacere condividere con voi non perché ritenga particolarmente interessante la mia esperienza di vita anzi ma perché credo che appunto sia sempre divertente quando nelle vite degli altri quando ce le raccontano poi ovviamente ogni racconto di una vita o di un pezzo di vita è anche un po' un'interpretazione è anche un po' un modo per farsi riconoscere dagli altri e anche e per chi ascolta è anche un po' un modo magari per riconoscere qualcosa di se stesso anche per opposizione anche per dire no ma io sono diverso io sono diversa io non ho mai pensato queste cose però anche nella differenza qualche volta ci riconosciamo ecco questa cosa pensavo di raccontarvela perché effettivamente è stato un cammino abbastanza così assillato da questo da questo assillo e quindi magari anche voi conoscerete avete conosciuto state conoscendo qualcosa di in qualche modo paragonabile a questa cosa magari anche voi ci passerete o ci siete passati o ci state passando magari anche voi scoprirete quanto qualche volta in realtà anche in questo tipo di cammino perché appunto ora non è che la mia sia una storia di chissà quale è successo ovviamente però diciamo si è un po' esaudito il mio sogno il sogno che avevo da bambina ovviamente si è esaudito come si esaudiscono i desideri ora c'è questo bellissimo romanzo l'ultimo postumo che in realtà è un'autobiografia con falsi nomi perché per ovvi motivi di Truman Capote che si chiama Preghiere Esaudite Answered Prayers il titolo completo doveva essere Preghiere Esaudite una commedia oscura una dark comedy sui ricchissimi lui in realtà poi questo libro l'ha lasciato incompiuto perché è uscito postumo è morto e questo libro ha nel titolo nell'epigrafe e ritorna tante volte nel testo una frase secondo me bellissima di Teresa Davila che dice ve la parafraso perché che dice sostanzialmente che non c'è niente di più tremendo di una preghiera esaudita che sono molto meno tremende delle preghiere esaudite le preghiere che non vengono ascoltate è una frase molto profonda secondo me è una frase che in me risuona a tanti a tanti livelli a tante eco dentro di me questa frase e penso anche dentro di voi se ci pensate perché effettivamente è vero che c'è qualcosa di un po' tremendo in un desiderio che si realizza no? perché un desiderio che si realizza ci cambia perché naturalmente l'atto di desiderare qualcosa è qualcosa che ci cambia che cambia la nostra postura verso il mondo e nel momento in cui quella tensione che noi sprigioniamo con il desiderare qualcosa è accolta nel momento in cui la tensione rimbalza nel momento in cui trova un punto di approdo è molto difficile tenersi in piedi è molto difficile riuscire a convogliare altrettanta energia da un'altra parte per mantenerci in equilibrio non è semplice e soprattutto al di là di questo discorso che può sembrare un po' astratto ma che se ci pensate è anche molto pragmatico perché se voi volete tantissimo una cosa metterete tante energie nel cercare di ottenerla e quando l'avrete ottenuta a volte noi abbiamo la sensazione che la cosa in sé la cosa reale tutto Proust ce lo insegna la cosa reale poi non corrisponda a quella che avevamo sognato non corrisponda a quella che avevamo desiderato c'è questo bellissimo bellissimo brano nella recherche dove c'è Proust che è ragazzino lui è il narratore l'autore vabbè c'è tutto questo gioco autobiografico di specchi che a un certo punto va a vedere questa attrice famosissima a teatro la Bermas che in realtà è ispirata a Sara Bernard una attrice drammatica famosissima una celebrità una diva vera dell'epoca e lui la va a vedere e ci sono pagine 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 che sono fra le pagine più tristi che io abbia mai letto ma più tristi in un modo bello tristi in un modo struggente su quanto lui nel momento in cui sta lì a vedere questa attrice a vedere questo spettacolo che era la cosa che più desiderava era la cosa su cui aveva teso tutte le sue energie si sente che in realtà è un po' deludente che in realtà non è tutta questa cosa questa Bermas lo lascia un po' freddino lo lascia un po' deluso e questa delusione però gli pesa tantissimo gli costa tantissimo e che questo credo che sia qualcosa che molto spesso succede nella vita quando una cosa che avevamo idealizzato desiderato vagheggiato poi ci arriva davvero molte volte non ci sembra all'altezza delle nostre aspettative però io qualche volta proverei anche così a un po' rovesciare la questione e a dire ma forse in realtà è il fatto che le nostre aspettative le aspettative che abbiamo proiettato su quella cosa sono quello che ci ha cambiato e non è tanto la differenza fra l'oggetto ideale e l'oggetto reale ma è proprio il fatto che l'aver desiderato così tanto l'esserci così tanto appassionati ci ha reso delle persone diverse e ora dobbiamo trovare un nuovo equilibrio un nuovo modo così di dare un senso ai nostri desideri e questa è la cosa che succede appunto che succede probabilmente vi succederà ogni volta che otterrete un obiettivo qualcosa che avete tanto desiderato lì per lì magari può succedere che uno si senta un pochino sì un pochino perso un pochino disorientato e che abbia bisogno di trovare una nuova direzione ecco a me per esempio questa cosa è successa ogni volta che ho finito di scrivere una cosa oltre alla sforzatezza ho avuto sempre questa sensazione di essere come un ago di una bussola un po' smagnetizzata di dover trovare una nuova una nuova direzione di dovermi rimettere a volere qualcosa a desiderare qualcosa a sforzarmi per qualcosa e appunto questo assillo però costante della scrittura che in realtà si nutre tantissimo di cosa si nutre di curiosità io una cosa che dico sempre ai miei alunni è che se uno vuole scrivere se uno vuole fare lo scrittore la scrittrice al di là dell'assillo al di là della rappresentazione di se stesso un po' bovaristica ma che secondo me è come dire accettabilissima e anzi è una cosa molto tenera c'è anche però la curiosità che è importante non possiamo scrivere se non siamo curiosi della vita degli altri di noi stessi degli stimoli che ci arrivano addosso non possiamo scrivere se non sappiamo leggere non possiamo scrivere bene se non sappiamo riconoscere negli altri delle parti di noi stessi e in noi stessi delle parti degli altri questa è una cosa molto importante perché è la cosa che ci apre all'essere il più possibile universali all'essere leggibili all'arrivare anche agli altri ecco e proprio per questo adesso dopo tutto questo tutto questo mio parlare che immagino vi abbia anche un po' annoiati a questo punto volevo leggervi qualche parola non mia ma di grandi scrittori che ci parlano della scrittura e che ci fanno capire in realtà quanto grandi piccoli così così insomma ci somigliamo tutti nel momento in cui abbiamo a che fare con l'assillo con questo benedetto Tafano e poi dopo penso che possiamo fare qualche domanda va bene? ok però mi siedo per leggere se no allora io vi ho portato con tutti i miei segnalibri alcuni scrittori molto diversi qualcuno inorridirebbe forse a vederli accostati ci ho portato Virginia Woolf poi vi ho portato Stephen King la mia passione e vi ho portato Shirley Jackson che in qualche modo potrebbe fungere da anello di congiunzione sono tre scrittori che io amo per motivi diversi e in modi diversi e sono tre scrittori che ci hanno lasciato dei testi che parlano anche con una spontaneità notevole del loro rapporto con la scrittura allora prima di tutto volevo leggervi queste parole di Virginia Woolf questi sono i suoi diari che sapete che lei si suicidò nel 1941 e lasciò una serie di diari che aveva tenuto negli anni negli anni precedenti e che si stendono veramente su decenni e decenni e c'era questo mare di carte che suo marito Leonard trovò e decise di pubblicare come naturalmente curandoli lui quindi sicuramente avrà fatto qualche piccolo cambiamento però sono testi che non erano pensati per essere pubblicati quindi sono per questo molto intimi e per questo magari qualche volta ci pongono anche il problema di spiare l'intimità di una persona sentite Virginia Woolf che stava scrivendo La camera di Jacob che è uno dei suoi primi romanzi ed è uno dei primi romanzi che la consacrano e sentito come si sentiva e dovrei scrivere La camera di Jacob e non posso e invece scriverò le ragioni per cui non posso già che questo diario è una specie di vecchia confidente dal volto gentile e inespressivo bene vedi sono fallita come scrittrice sono fuori moda vecchia non farò mai nulla di meglio non ho cervello la primavera è ovunque il mio libro uscito prima del tempo è già abortito un mortaretto bagnato ora il fatto concreto è che Ralf ha mandato il mio libro per recensione al Times senza metterci la data di pubblicazione sicché hanno scarabocchiato una noterella da stampare lunedì al più tardi ma in un cantuccio sconnessa abbastanza lusinghiera ma del tutto priva di intelligenza lei praticamente si è offesa perché le hanno fatto una recensione di cui non era soddisfatta e quindi fa di tutto un erbo un fascio e si sente una fallita Virginia Woolf bene questo problema delle lodie della fama deve essere affrontato che differenza porta la notorietà e poi inizia a interrogarsi ciò che di mi deprime è il pensiero che la gente abbia smesso di interessarsi a me proprio nel momento in cui con l'aiuto della stampa mi pareva di diventare più me stessa non voglio una reputazione stabile che forse stavo ottenendo come una delle nostre più importanti romanziere ma devo ancora raccogliere tutta la critica privata che è la vera prova del fuoco pesata quella potrò dire se sono interessante o del tutto sorpassata mi sento comunque abbastanza consapevole da smettere se mi ritengo sorpassata non diverrò a una macchina semmai sono una macchina per macinare articoli e mentre scrivo sorge in qualche angolo della mia testa la curiosa e assai piacevole sensazione di qualcosa che voglio scrivere questo lo scrive l'otto aprile qualche giorno dopo nulla da registrare solo un intollerabile attacco della mia smania di scrivere eccomi incatenata alla roccia costretta all'inattività condannata a lasciare che ogni ansia dispetto irritazione ossessione continuo ad artigliarmi e a rodermi ad andarsene e a ritornare questo è il giorno in cui non posso camminare e non devo lavorare qualunque libro io legga mi ribolla in testa come parte di un articolo che voglio scrivere nessuno in tutto il Sussex è infelice quanto me né altrettanto conscio di questa infinita capacità di godere ammassata in me se soltanto potessi usarla il sole si riversa su no non si riversa in onda piuttosto tutta la campagna gialla e i granai questo libro ha preso un temporale e le pagine si sono appiccicate lunghi e bassi e cosa non darei adesso per venire fuori dal bosco di furl sporca e accaldata col naso puntato verso casa con tutti i muscoli indolenziti e il cervello impregnato di lavanda lucida e fresca e pronta ad affrontare il compito del giorno dopo niente mi sfuggirebbe mi verrebbe subito la frase giusta quella che calza pennello e poi sulla via polverosa mentre lavoro di pedali anche il racconto convincerebbe a narrarsi e poi calerebbe il sole e infine a casa e un accesso di poesia dopo cena un po' letta un po' vissuta quasi la carne si dissolvesse e attraverso la carne sfodessero i fiori rossi e bianchi oh meno male scrivendo sono riuscita a sfogare a metà del mio nervosismo sentro il povero El che spinge la falciatrice su e giù per il prato perché una moglie come me dovrebbe avere un chiavistello alla sua gabbia morde e ieri lui ha perso l'intera giornata correndo tutta Londra per me e tuttavia se una prometeo se la roccia è dura e i tafani pungenti gratitudine affetto nessuno dei più nobili sentimenti ha potere e così va sprecato questo mese di agosto ecco questo libro è tutto così è molto bello è tutto un viaggio nei tormenti di una persona che sta facendo un lavoro intellettuale immenso e ne soffre ne soffre nervosamente ogni singolo millimetro ogni singolo istante lei comunque si trova in uno stato di tensione e sofferenza quest'altro libro che vi ho portato è un libro di Shirley Jackson che voi forse conoscete perché è un'autrice che era stata completamente dimenticata però qualche anno fa è risorta agli onori delle cronache il suo incubo di Hill House che è stato riadattato è diventato una serie e comunque è stata anche ripubblicata e lei è una scrittrice straordinaria è stata una scrittrice straordinaria che è morta negli anni 60 è morta piuttosto giovane ha vissuto tutta la vita con questo marito giornalista critico letterario e questa casa piena piena di figli e a un certo punto 30 anni dopo la morte di Shirley Jackson a metà degli anni 90 uno dei suoi figli apre la porta di casa e si trova una scatola con dentro degli scritti inediti di sua madre da cui è nato poi questo libro Paranoia non so se lo conoscete l'ha pubblicato a Delphi è un libro in cui ci sono credo quattro racconti bellissimi credo siano quattro e poi ci sono degli scritti autobiografici autobiografici che parlano dell'arte dello scrivere e la cosa divertentissima di questi scritti è che sono estremamente spiritosi lei in realtà è una maestra del gotico del brivido del perturbante però quando scrive di sé ma anche in realtà nelle cose perturbanti che scrive è sempre estremamente spiritosa sentite questo brano che si intitola come scrivo trovo molto difficile distinguere tra vita e finzione sono una scrittrice che per una incredibile serie di coincidenze si trova seduta alla macchina da scrivere per poche ore al giorno visto che trascorro il resto del tempo a passare l'aspirapolvere sul tappeto del soggiorno a portare i figli a scuola o a cercare qualcosa di nuovo da preparare per cena in realtà la maggior parte del mio tempo è occupata da cose che non richiedono grandissima capacità immaginativa e l'unico modo per rendere più accettabili questi lavori meccanici è pensare a qualcos'altro mentre li svolgo mi racconto storie tutto il giorno e sono riuscita a intessere una favola di infinita complessità intorno agli oggetti inanimati di casa mia tanto che nessuno dei miei familiari si stupisce se sposto la piastra per le cialde su un altro ripiano perché nella mia storia ha litigato con il tostapane e se li lasciassi vicini potrebbero picchiarsi avevano litigato tra parentesi perché avevo comprato quelle cialde surgelate che si mettono nel tostapane e la piastra era furiosa certo sembra una cosa un po' folle ma riesce a dolcire la fredda realtà e a volte la trasforma davvero in un racconto ricordo che una mattina di primavera stavo andando a fare la spesa con mia figlia nel passeggino e mentre scendevo verso i negozi pensavo ai miei vicini come fa chiunque abiti in un piccolo paese la sera prima avevo letto un libro in cui si raccontava come veniva scelta la vittima di un sacrificio e mi stavo chiedendo chi nel nostro paese sarebbe stato un buon candidato per quel ruolo mi stavo chiedendo anche cosa sarebbe successo se avessero estratto a sorte famiglia per famiglia i fratelli Campbell che non si parlavano da quasi vent'anni avrebbero dovuto presentarsi insieme e mi stavo chiedendo cosa sarebbe successo al giovane Garcia che aveva sposato una ragazza detestata dei suoi genitori avrebbero dovuto ammetterla tra i membri della famiglia immaginare i miei conoscenti in una situazione del genere era molto affascinante così decisi che avrei provato a metterla per iscritto appena tornata a casa quindi dopo aver fatto la spesa spinto il passeggino su per la salita e rimesso mia figlia nel box mi sono seduta alla scrivania e ho scritto la storia che mi ero raccontata per tutta la mattina poiché mi interessava il metodo ho intitolato il racconto forse lo conoscete la lotteria e dopo che è stato pubblicato ho continuato a ricevere lettere da gente che la definiva una storia terrificante e mi chiedeva come avevo fatto a pensare a una cosa tanto orribile per un po' ho cercato di spiegare che l'avevo scritta pensando ai miei vicini ma nessuno mi credeva tra parentesi in paese nessuno ha mai sentito parlare del New Yorker e tantomeno ha letto il mio racconto una delle cose più belle del lavoro di scrittrice è che nulla va mai sprecato un po' come la casalinga frugale che mette da parte con cura i fagiolini avanzati e il bacon freddo per poi metterli magnificamente in tavola dentro un elaborato spezzatino una scrittrice seria e parsimoniosa può conservare piccoli frammenti di idee fatti e conversazioni e persino vezzi ed espressioni del viso per poi usarli in futuro sono convinta per esempio che in qualche angolo della mia mente ci sia una specie di deposito dentro centinaia di piccoli dettagli che un giorno mi saranno utili e allora me li ricorderò sono anche sicura che quel deposito assomiglia parecchio ai cassetti della mia scrivania che a loro volta contengono ogni sorta di cose che un giorno potrebbero servirmi come un paio di pattini a rotelle una ciocca di capelli di ciascuno dei miei figli un vecchio portacipria e un panno che credo sia il vestimento interno dei miei scarponi invernali penso che una storia possa essere ricavata da ogni piccola combinazione di circostanze allestita nel modo più vantaggioso e decorata usando un po' di immaginazione ho cominciato a scrivere storie sui miei figli perché i bambini più di ogni altra cosa al mondo possiedono una specie di magia molto di ciò che fanno è stranamente logico eppure incomprensibile agli adulti ora che i miei figli sanno leggere e hanno una maggiore coscienza di sé trovo quasi impossibile scrivere di loro senza sembrare artefatta perché ormai fanno le cose con quell'inopportuno razziocinio di adulti che eliminerà tutta la magia una volta però dopo che avevo passato un'intera giornata di pioggia a lottare con lo sportello bloccato del mio vecchio frigorifero la mia figlia più piccola mi ha chiesto perché non lo aprissi con la magia abbandonare il frigorifero e sedermi a scrivere un racconto sullo sportello che si apriva per magia è stato molto più divertente che continuare ad arrabbiarmi e a prenderlo a pugni siamo dovuti uscire a cena ma questo naturalmente mi fa sempre piacere il racconto fra l'altro mi ha fruttato i soldi per un frigorifero nuovo sicuramente meglio che cercare di aprire quello vecchio senza magia sto cercando di dire che con la piccola aggiunta di un elemento di fantasia in realtà o immaginazione ci si può divertire scrivendo di qualunque cosa ecco Shirley Jackson è stata considerata un'importantissima influenza da parte di un altro autore che forse se ci pensate così astrettamente non vi sembra tanto che sia questo uno dei fulcri della sua produzione però in realtà lo è nel senso quest'autore è Stephen King e uno dei fulcri della sua produzione cioè uno dei temi su cui lui ha scritto le sue cose forse più belle è proprio la scrittura lui ha scritto tantissimi romanzi che parlano di ossessione che parlano di ossessione che parlano del tafano dello scrivere molti di questi romanzi sono diventati poi famosissimi sono entrati proprio nel nostro immaginario pensate per esempio a Shining il padre Jack Torrance non è soltanto un alcolizzato perché c'è in King tantissimo il tema della dipendenza associata alla scrittura all'ansia all'angoscia all'urgenza di scrivere ma è anche uno scrittore un aspirante scrittore o meglio uno scrittore che sta cercando di scrivere il suo libro che veramente gli dia il successo che sente di meritare pensate per esempio alla metà oscura non so se lo conoscete è la storia di uno scrittore che si è creato un alter ego cioè si è creato uno pseudonimo per scrivere dei libracci che hanno venduto tantissimo e a un certo punto decide di fare il grande salto e di mettersi a scrivere delle cose che piacciono alla critica che è quello che a un certo punto fece Stephen King inventandosi invece uno pseudonimo per scrivere le cose che piacevano alla critica e tenendosi il suo nome per scrivere le cose che la critica allora considerava libracci ma che ora fortunatamente sta rivalutando ecco nella metà oscura questo pseudonimo che è di una violenza tremenda prende vita e naturalmente fa un sacco di cose diciamo che complicano abbastanza l'esistenza dello scrittore pensate naturalmente a Misery Misery è la storia del rapporto di uno scrittore cannibalizzato dal suo pubblico con il suo pubblico e con la scrittura Paul Sheldon il protagonista di Misery è un personaggio secondo me straordinario ed è un personaggio su cui ogni aspirante scrittore e anche ogni scrittore dovrebbe riflettere perché lui cosa fa? lui ha scritto questo libro che si discosta anche lì dal suo stile commerciale che va benissimo e questo libro nel momento in cui lui lo fa leggere a Annie Wilkis l'infermiera pazza killer completamente stralunata completamente fuori di testa che l'ha salvato da un incidente che si sta prendendo cura di lui ma lo sta anche torturando e che lui da un lato disprezza in quanto lei è ossessionata da Misery il personaggio di questi suoi romanzi un po' da due soldi che lui considera una produzione minore ma che gli hanno dato invece il grosso successo ecco lei quando legge il suo nuovo romanzo e non le piace lo getta in una disperazione tremenda il pubblico che lui in realtà disprezza nel momento in cui non lo approva nel momento in cui non lo loda più diventa qualcosa di terribile qualcosa che deve assolutamente superare qualcosa che deve assolutamente compiacere e quindi nasce fra i due questo stranissimo rapporto questo stranissimo rapporto ambivalente che è veramente forse fra i più magistralmente descritti rapporti di ambivalenza fra una vittima è un carnefice perché i ruoli si confondono e si scambiano continuamente ma a fare da punto intermedio fra l'uno e l'altro non è soltanto la violenza che lei esercita su di lui e che lui esercita su di lei ma è anche la scrittura è il fatto che a un certo punto lei lo costringa a finire questo libro che è un libro che è l'ultima avventura di miseri e lui nel momento in cui si trova a dover riesumare la sua eroina che non voleva che in qualche modo disprezzava eccetera eccetera si trova talmente tanto dentro la storia talmente tanto dentro la scrittura che si riesce ad appassionare a questa cosa con un gusto che aveva completamente dimenticato nel momento in cui pensava più all'impressione che avrebbe fatto che a quello che scriveva quando si ridestò la cantina era piena della luce cinera dell'alba un topo di notevoli dimensioni se ne stava accucciato sul vassoio lasciatogli da Enni intento a rosicchiare formaggio con la coda elegantemente avvolta intorno al corpo poi l'urlò sobbalzò poi urlò di nuovo quando fu trafitto dal dolore alle gambe il topo scappò lei gli aveva lasciato delle capsule sapeva che il Novril che è questo antidolorifico che è l'unica cosa che gli permette di sopravvivere al dolore non avrebbe mitigato il dolore ma era meglio di niente e poi dolore non dolore non è forse ora della sana vecchia dose mattutina Paul mandò giù due capsule con un sorso di Pepsi e tornò ad appoggiarsi ai cucini avvertiva un pulsare sordo ai reni stava davvero sviluppando qualcosa laggiù che bellezza marziani pensò macchine di morte marziane torno a guardare la griglia aspettandosi che sembrasse quel che era una griglia appunto nella luce del mattino una griglia e nient'altro si stupì di scoprire che somigliava ancora a una macchina di distruzione nel film di Wells ti era venuta un'idea quale tornò la canzone quella dei Tramps brucia baby brucia brucia la porcaccia altro che porcaccia non aveva voluto lasciargli nemmeno una candela aveva un bel bruciare gli arrivò un messaggio dai ragazzi dell'officina non c'è bisogno che bruci niente adesso né qui si può sapere di che cosa cazzo state parlando ragazzi vorreste avere la gentilezza di farmi partecipe poi venne tutto in una volta nel modo in cui vengono tutte le idee veramente buone bella rotonda e levigata e assolutamente convincente nella sua smagliante perfezione fissò la griglia aspettandosi di sentire tornare il dolore di quel che aveva fatto di quello che lei gli aveva fatto fare lo provò ma debole appannato era molto peggiore il dolore ai reni che cosa gli aveva detto ieri tutto quel che ho fatto è stato farti abbandonare un brutto libro perché ti dedicassi al libro più bello che tu abbia mai scritto forse c'era anche una stramba verità in quell'asserzione forse lui aveva ampiamente sopravvalutato i pregi di bolidi è solo la tua mente che cerca conforto bisbiglia una vocina se mai uscirai da questa storia troverai la maniera di abbindolarti più o meno la stessa maniera convincendoti che in fondo non hai mai avuto un gran bisogno del piede sinistro e poi che diamine a cinque unghie e meno da tagliare e fanno meraviglie con le protesi di questi tempi no Paul l'uno era un libro maledettamente buono e l'altro era un piede maledettamente utile non prendiamoci in giro tuttavia sotto sotto sospettava che ci fosse inganno anche in quei pensieri ma diciamoci la verità Paul tu stai mentendo a te stesso una persona che inventa storie e mente a tutti perciò quella stessa persona non può mai mentire a se stesso sarà paradossale ma è anche la verità se imbocchi quella strada tanto vale che tu metta la custodia sulla macchina per scrivere e cominci a studiare per procurarti una licenza di agente di borsa o qualcos'altro del genere perché come scrittore sei finito ecco questo è lui che non riesce più a capire dove finisce la sua ossessione per quel libro che ha scritto e quindi il tafano che l'ha spinto a scriverlo e il bisogno di riconoscimento da parte del pubblico cioè il suo pubblico che è una psicopatica che lui in realtà disprezza eppure è importantissima ora in questo libro Stephen King esplora veramente nelle profondità questo rapporto fondamentale che si sviluppa perché chi scrive e sviluppa con chi lo legge ecco e l'ultimo brano che vi volevo leggere è sempre un brano suo da questo libro che penso conosciate On Writing che è un libro che lui ha definito la sua autobiografia attraverso la scrittura dice questo è un libro che parla soprattutto di me non tanto perché la mia vita sia un romanzo ma perché la mia vita è la scrittura ed è un libro infatti che parla di questa sua ossessione di questo suo tapano e volevo leggervi soltanto questa piccola pagina in cui lui parla di se stesso bambino e del primo sentore della libertà che gli dava lo scrivere quell'anno mio fratello David passò in quarta elementare mentre io fui costretto a ritirarmi avevo perso troppi giorni della prima almeno secondo mia madre la presidenza avrei potuto ricominciare da capo in autunno a patto di essere in buona salute trascorsi gran parte di quei mesi chiuso in casa o addirittura letto divorai tornellate di fumetti per poi dedicarmi con gusto a Tom Swift Dave Dawson un eroico pilota della seconda guerra mondiale sempre alla guida di aerei che aggredivano l'alto dei cieli con le loro eliche e concentrarmi alla fine sugli agghiaccianti racconti di animali firmati da Jack London a un certo punto iniziò a scrivere storie di mio pugno l'imitazione anticipò la creazione copiavo parola per parola delle avventure di combat case sul block notes talora raggiungendo le mie descrizioni dove sembravano più opportune erano accampati in un grande cascinale tormentati dai pifferi avrei impiegato un altro paio d'anni a scoprire che piffero e spiffero erano due parole diverse a quei tempi ero anche convinto che dettagli fosse uguali a dentali e che una troia fosse una stanga di donna perché i giocatori di pallacanestro venivano spesso chiamati figli di troia durante le partite a sei anni ha ancora la testa piena di tessere dello scarabeo mischiate alla rinfusa una volta mostrai a mamma una di quelle scopiazzature e lei ne rimase davvero colpita ricordo il suo sorriso meravigliato come se faticasse a credere che suo figlio fosse così sveglio praticamente un bambino prodigio accidenti non avevo mai notato un'espressione del genere o comunque non rivolta a me e ne fui entusiasta mi domandò se avessi immaginato il racconto da solo e dovetti confessare di averlo copiato quasi alla lettera da un albo a fumetti lei ne rimase delusa smorzando la mia citazione poi mi ricostituì il brock notes scrivene uno per quanto tu ostivi mi consigliò quei giornalini sono delle porcherie con combat case che non manca mai di spaccare i denti a qualcuno scommetto che sei capace di fare di meglio coraggio inventane uno tu a quell'idea provai una sensazione di immensa possibilità come se mi fosse stato dato libero accesso a un gigantesco edificio pieno di porte chiuse e fossi stato autorizzato a spalancare quelle che preferivo nel corso di una vita nessuno sarebbe mai riuscito ad aprirne così tante una certezza scaturita allora e che ancora mi accompagna ora io direi che vi ho parlato già fin troppo tempo spero di non avervi troppo annoiati e volevo chiedervi se per caso avevate delle domande o delle osservazioni o delle cose che volevate dire senza replica non lo so quello che volete non so come funziona ciao sono Francesca il mio intervento non ha una domanda non vuole porre una domanda ma proprio un'osservazione e volevo ringraziarti perché ringraziarti innanzitutto per immagino non sia stato facile raccontarsi raccontare la propria vita e soprattutto in momenti difficili però è la cosa forse che una persona la cosa più importante che una persona può fare quando parla a qualcuno e soprattutto qualcuno che intraprende come noi una strada che inizia a intraprendere una strada anche molto introspettiva come quella della scrittura sostanzialmente ti ringrazio perché mi hai dato un briciolo di speranza e ho rivisto esattamente me in te in tantissime cose ho 26 anni quando ero piccola non avevo la tv mi sentivo diversa ma ho letto un sacco e scritto come diceva appunto prima un po' per imitazione e poi creando sono figlia unica e mi facevo i teatrini da sola e poi ho smesso un po' di scrivere ma sentivo questa urgenza immensa che non ho mai saputo esprimere a parole e finalmente oggi li ho trovate dette da te e dette da altri scrittori e ho preso filosofia volevo prendere letteratura perché amo le poesie tantissimo perché in quelle poche parole esprimono veramente infiniti significati e sensi ho preso filosofia mi sono laureata in filosofia tra l'altro in pieno lockdown e sono qui un po' come forse tu sei andata a Parigi sono qui da due giorni quindi molto spaisata ancora forse impaurita proprio da quello che hai espresso anche tu cioè dalla paura quasi di aver acciuffato finalmente il mio desiderio quello di scrivere e poter scrivere forse per la vita o almeno per un anno visto che il mio percorso qui durerà almeno un anno spero e non mi sento ancora con quell'entusiasmo libero di cui hai parlato tu ma spero che possa essere così quindi grazie perché mi hai dato un orizzonte possibile quindi grazie grazie a te stavo cercando un posto dove mettere il microfono per applaudire senza che facesse stranieri grazie a te veramente purtroppo non si vede perché ho la mascherina ma mentre parlavi stavo sorridendo molto perché insomma a parte che abbiamo veramente tante cose in comune è inquietante questa cosa grazie per esserti esposta così anche tu so che appunto è difficile farlo da un palco a volte è ancora più difficile farlo dal pubblico e quindi niente grazie ti auguro veramente un bocca al lupo grandissimo a tutti voi in realtà questo mio discorso che vi ho fatto oggi voleva essere un po' un in bocca al lupo con tafani insetti però era una cosa speravo appunto che vi arrivasse questa idea che comunque appunto state iniziando una cosa veramente entusiasmante e che probabilmente vi porterà molto più lontani di quello che immaginate ora quindi grazie Francesca e in bocca al lupo veramente per tutto e brava che ti sei laureata anche durante il lockdown non so se qualcuno ti vuole parlare perché io non vedo niente in tutto questo buonasera io volevo chiederle come si fa un po' a tenere il giusto equilibrio tra questo assillo quasi un po' angoscia tratti che penso sì sono d'accordo con la ragazza Francesca che ha parlato ha dato un nome a penso un sentimento comune ad ogni persona in quest'aula a dargli uno spazio quindi a farlo vivere però senza che diventi il fulcro di tutto cioè Alda Merini diceva non voglio dare i miei smarrimenti in pasta a nessuno ed è una frase a cui io sono molto affezionata quindi come si fa a trovare in un lavoro che è così intimo il giusto equilibrio tra l'angoscia e però neanche il farsi fagocitare da essa allora grazie per questa domanda intanto datemi pure del tu insomma se volete perché se no mi sento troppo anziana ma grazie per questa bellissima domanda è una domanda a cui io la risposta sinceramente non l'ho ancora trovata però posso dire posso dirvi posso dirti quello che in realtà cerco di fare io perché penso che sia una cosa anche che appunto in effetti tutti cerchiamo equilibrio no l'equilibrio qualcosa una situazione appunto in cui non possiamo forse rimanere a lungo ma che cerchiamo continuamente che cerchiamo da ogni angolatura quindi probabilmente anche rispetto a questa tua domanda che è una domanda che mi faccio spesso anch'io che è una domanda che mi fanno spesso anche i miei studenti perché effettivamente è una cosa molto importante una cosa molto profonda penso che il meglio che possiamo trovare è un tentativo di approssimazione di un equilibrio un equilibrio perfetto forse è anche una fortuna che noi lo possiamo trovare in questo perché è la cosa che ci mantiene in movimento che ci costringe a continuare a cercare continuare a muoverci ecco secondo me le cose importanti sarò qua banale però sono intanto cercare questa è una cosa fondamentale scusate non vorrei sembrare una guru però cercate veramente di essere per voi stessi un po' un rifugio questa è una cosa molto importante che io ho imparato negli anni ma non soltanto rispetto alla scrittura ma ovviamente rispetto alla scrittura è molto molto importante nel senso che comunque scrivere significa appunto anche esporsi significa appunto anche avere un assillo significa non trovare riposo non trovare riposo da un lato e essere continuamente esposti è una condizione che può essere anche molto dolorosa può essere anche molto difficile da affrontare e può anche in qualche modo spingerci a richiuderci noi stessi magari nel modo sbagliato allora io credo che la cosa importante da un lato sia cercare di essere protettivi verso se stessi appunto anche rispetto ai giudizi degli altri anche rispetto ai giudizi che noi diamo su noi stessi anche rispetto agli standard che ci diamo agli obiettivi che ci diamo cercate di coltivare una indulgenza diciamo non l'assista però come dire confortevole perché questo vi aiuterà e l'altra cosa che secondo me è sempre utile fare è mantenersi sempre 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 aperti al mondo sembra una frase fatta ma significa è ovvio che nel momento in cui uno scrive ecco per qualche motivo per qualche via qualunque cosa scriva si tratta di passare tantissimo tempo nel proprio mondo interiore no? può darsi che in questo mondo interiore insomma qualche volta salti fuori qualche mostro può darsi che qualche volta salti fuori qualche specie di circolo da cui non si riesce a uscire dei pensieri che si rincorrono che si mangiano la coda e da cui diventa molto difficile tirarsi fuori ecco quando succedono queste cose a me in genere la cosa che mi salva è uscire nel mondo cioè uscire è cosa che spero potremmo continuare a fare forse per esempio io cammino tantissimo per me camminare sembra una stupidaggine ma per me è una grossissima terapia perché come diceva Shirley Jackson in quel pezzo che vi ho letto che mi piace tanto di lei che cammina e si immagina il racconto è anche un modo per farsi venire delle idee che nascono anche a contatto con la superficie della realtà questo secondo me è una cosa importante e poi e poi sì diciamo secondo me sentirsi amati è una cosa importante sentirsi amati anche da se stessi amati qua c'è una frase che mi piace sempre citare che potete rivendervi agevolmente perché vale per molte per molte occasioni è una frase molto bella di Adorno un filosofo che dice la cosa che contraddistingue l'amore è questa che soltanto dove si è amati ci si può mostrare deboli senza aspettarsi di ricevere in risposta alla forza se ci pensate è una bellissima definizione dell'amore della sensazione di essere amati che non vuol dire essere protetti è una cosa più sottile vuol dire posso mostrare le mie ferite posso mostrare le mie debolezze posso mostrare i miei punti più vulnerabili e non devo aspettarmi che la risposta sarà violenta non devo aspettarmi che la persona che ho di fronte come dire farà leva su questi miei punti deboli per farmi del male questa è una cosa che secondo me quando uno scrive va coltivata molto nei riguardi per quanto possibile del proprio pubblico immaginario ma anche nei riguardi di se stessi cioè cercate di non aspettarvi sempre che se vi scoprite vi arriverà in risposta alla forza io appunto prima come diceva Francesca vi ho parlato di alcune cose fra l'altro non avevo assolutamente come dire preventivato di parlarvene poi già che c'ero il discorso mi ha portato lì vi ho parlato di alcune cose di mie debolezze di cose di cui per molto tempo mi sono anche un po' vergognata l'ho fatto probabilmente perché non mi aspettavo in risposta alla forza proprio per questa ragione qua ora non voglio dire con questo che mi dovete amare però capito però comunque diciamo questa cosa secondo me è importante cercate di non essere troppo troppo duri con voi stessi quando scrivete però siate severi severi vuol dire come dire severi ma giusti insomma se una cosa non vi piace se una cosa non vi convince se sentite che potete fare di meglio un po' di sforzo un po' di disciplina servono in realtà anche se sono parole che magari non ci piacciono però in un certo senso servono il fatto che la misura di questo ce la dà proprio l'assillo che abbiamo ce la dà la passione con cui comunque anche ci correggiamo questo è importante non so se ti ho risposto in maniera soddisfacente ciao anche io in realtà sono Francesca e sono una laureanda in filosofia e per me in realtà la questione della filosofia la mia scelta è stata un po' come trovare casa quindi adesso venendo qui in realtà sono un po' uscita dalla mia casa dove mi sentivo sicura dove avevo trovato un po' una dimensione e che in realtà ho sempre cercato un po' come io da piccola la chiamavo la ricerca del mio talento che non trovavo perché nello sport ero proprio una ciofeca e tutte le mie amiche invece erano molto brave anche a scuola comunque non sono mai stata la prima della classe quindi non ho mai trovato qualcosa in cui ero la più brava invece in filosofia ho trovato un po' proprio io sì il mio nido la mia casa adesso sto cercando un po' di uscire da questo andando in qualcosa di più intimo che per me è proprio scrivere che ho sempre pensato fosse il mio modo di esprimermi ma anche per questo è molto delicato perché se poi qualcuno va ad attaccare va a criticare il tuo modo di esprimerti penso che potrei sentirmi anche un po' senza strumenti quindi mi chiedevo se tu ancora oggi senti ogni tanto di essere vulnerabile da quel punto di vista oppure se pensi che il tuo talento lo scrivere sia ormai qualcosa di diciamo stabile che senti che nessuno può più diciamo criticare toccare farti diciamo cadere allora grazie anche a te Francesca è bella questa cosa che dici della vita che si sentivi a casa nella filosofia che ora stai cercando qualcos'altro però di più intimo più intimo ancora della casa quindi stai proprio entrando dentro di te è una cosa molto bella questa che hai detto allora no io ti farei assistere guarda se tu ieri sera fossi stata nel mio soggiorno io ero lì che frignavo col mio fidanzato dicendogli che non ho più il talento non sono capace perché avevo scritto una cosa che non mi piaceva ho pianto tutta la sera ero stanca vabbè ma occasionalmente molto spesso diciamo io non ho nessuna come dire certezza o sicurezza di non come dire di essere uscita dalla fase in cui mi devo mettere alla prova questa cosa un po' fa parte del mio carattere probabilmente un po' fa parte di una mia insicurezza innata che io ho e che però cerco di fare in modo che non mi blocchi questo è il mio grande sforzo sapere di essere una persona timida evitare che la timidezza diventi un bastone fra le ruote sapere di essere una persona con delle insicurezze come più o meno credo siano tutti però sapere di avere queste insicurezze non le voglio negare non le voglio non voglio far finta che non esistano non voglio non voglio neanche come dire costringermi a estirparle voglio prendere atto del fatto che le ho e però non voglio che mi blocchino nelle parti più creative di quello che mi piace fare quindi diciamo io come se fossi un po' scissa tra il momento come dire creativo quello in cui scrivo mi diverto e sono veramente felice e poi naturalmente le paranoie le ansie da prestazione eccetera quelle credo che non mi abbandoneranno mai ma ti dirò di più forse un po' mi piacciono anche cioè forse un po' ma non perché mi piace lamentarmi perché anzi purtroppo a me non piace tanto lamentarmi quindi a volte mi lamento del fatto che non mi piace lamentarmi però certe volte come dire anche appunto rendersi conto cioè non prendersi tanto sul serio ecco è una cosa che non è facile da mantenere soprattutto quando appunto le persone magari ti fanno le interviste ti chiedono la tua opinione ti dicono ma allora tu cosa pensi però è molto importante secondo me mantenere questa cosa ma non è soltanto non è una posa non è una come dire una cosa superficiale è una cosa molto profonda è molto importante secondo me evitare di pensare di essere arrivati a come dire a un punto in cui non c'è più niente da dimostrare ora ovviamente magari se uno poi è un grandissimo può anche arrivarci non lo so però ti parlo di me io non riesco proprio a concepirmi nella prospettiva di una persona che si sente come dire di aver dimostrato tutto quello che doveva dimostrare mi sentirei morente se mi sentissi così probabilmente quindi è anche una cosa scaramantica ma è anche una questione di come dire un certo tipo di agitazione di passione che a me serve che mi stimola tantissimo la mia creatività il mio desiderio di creare quindi comunque se qualche volta se vi capiterà e probabilmente vi capiterà non so a tutti ma forse ad alcuni di sentirvi insicuri di sentirvi insicuri della vostra strada di aver pensato magari sempre che ci fosse una cosa che era la vostra la vostra vocazione e poi magari accorgevi che dovete un po' correggere il tiro nel momento in cui ci arrivate più vicini secondo me appunto non c'è niente di male ed è una cosa molto molto umana che fa parte un po' anche del crescere ma fa parte anche soprattutto della curiosità verso se stessi che è una cosa molto bella se non diventa come dire una mania di perfezionismo paralizzante ecco secondo me ciao intanto mentre tu parlavi per esempio dell'estro del tormento a me è venuto in mente ciò che mi diceva la mia professoressa di italiano fino all'anno scorso che mi diceva sempre che i più grandi scrittori prendono le idee le proprie idee le proprie ispirazioni anche dalla propria sofferenza e volevo sapere appunto intanto cosa tu ne pensassi lei per esempio citava Leopardi ma anche Pascoli o anche Stephen King e anche Salinger per il giovane Holden e poi volevo chiederti anche se sia giusto se effettivamente possiamo definire questo estero come tormento ma anche sofferenza e dolore appunto se sia giusto definire la scrittura una sorta di terapia possiamo dire di seduta terapeutica che la singola persona fa per cercare di colmare o di alleviare il proprio dolore e a tal proposito mi viene in mente per esempio Freud che mi pare nell'interpretazione di sogni dica che scrivere permette alla persona appunto di liberarsi di questi tormenti che talvolta si rivelano solo nei sogni e insomma volevo sapere cosa tu ne pensassi se si potrebbe parlare di sofferenza e poi appunto di terapia allora grazie per questa bellissima domanda allora sì ovviamente qual è il fatto che le cose che ci fanno più male molto spesso sono quelle che sentiamo di più per qualche strano motivo forse un motivo evolutivo forse il fatto che comunque noi siamo dovuti diciamo noi i nostri predecessori generazioni generazioni di esseri umani per sopravvivere hanno usato anche il dolore come una protezione in qualche modo perché il dolore è la cosa che ci avverte che stiamo facendo qualcosa che ci fa stare male e quindi siamo molto sensibili al dolore e questo vale anche a livello emotivo anche a livello psicologico effettivamente quando voi siete felici magari avete più difficoltà a isolare i sentimenti avete più difficoltà a descrivere quello stato oppure semplicemente mentre uno è felice non ha voglia di fermarsi di mettersi a scrivere perché è molto più interessante godersi un momento di felicità no questo può essere una spiegazione secondo me che è così plausibile quindi è vero che da quello che fa male possiamo trarre molto possiamo distillare molto possiamo andare molto in profondità anche se anche se farlo appunto è doloroso e l'altra cosa che io credo è che in realtà appunto molto spesso i testi le poesie ma anche le canzoni volendo i racconti i romanzi che parlano che sono distillati dal dolore di chi li ha scritti arrivano molto forti a chi li legge perché effettivamente forse nelle nostre parti più fragili ci assomigliamo di più che in quelle forti questa è una cosa che io penso e che è da tanto tempo che rifletto su questa cosa penso che sia vero poi naturalmente esiste anche un'ispirazione diciamo felice esiste anche un'ispirazione umoristica ma anche moltissimi dei grandi umoristi che sono fra gli scrittori che io prediligo penso a Diderot penso a Flaubert anche che è un umorista a modo suo penso a Mark Twain sono scrittori che hanno un forte senso dell'umorismo ma anche un forte senso anche del tragico se vogliamo quindi anche per essere anche per far ridere anche per essere umoristici dobbiamo avere un senso di quello che ci fa stare male è vero è molto universale quindi questa cosa sì penso che sia vera penso che non sia l'unica via penso che ci sia anche un modo felice di soffrire in qualche modo nello scrivere e questa è la cosa che io identifico di più nella scrittura più che una terapia per quanto obiettivamente la scrittura possa avere una funzione terapeutica molto importante questa è una cosa che si sa da tempi molto antichi perché effettivamente scrivere di una cosa è un modo in qualche modo anche per tirarla fuori è come se buttassimo fuori un veleno è come se mettessimo una distanza fra la cosa che ci fa soffrire e noi stessi quindi questo sì è importante però allo stesso tempo quello che io almeno credo quello che vedo nella scrittura è che tante volte se io soffro e mi metto a scrivere a partire da una cosa che mi ha fatto soffrire quello che succede non è tanto che mi sento curata da questa azione ma è che inizio a provare un piacere in quella sofferenza che altrimenti non avrei provato inizio a provare anche una forma di felicità appunto creativa che è la felicità di quando crei qualcosa io vabbè sono una persona molto creativa troppo cioè faccio un sacco di cose costruisco faccio delle invenzioni faccio un sacco di casino infatti è un disastro ma perché provo un grandissimo piacere nel fare delle cose nel immaginarmi una cosa e crearla nell'immaginarmi una cosa e scriverla e quel piacere creativo che è un piacere molto specifico che appunto se siete qua conoscete tutti voi è una cosa che per me è come se avvolgesse a volte la sofferenza quando ne scrivo e sì in questo senso un po' la cura però per questa via almeno per quanto mi riguarda io la vivo molto così purtroppo dobbiamo salutarci quindi facciamo un grande applauso a Ilaria grazie 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 grazie